Buonasera, vi presento il signor Carriera, l'elezione di Petro, il capitano, questa è la vista della scuola di Versailles. Iniziamo con l'appello, il signore Valle Percuschi, Carli Maci, Bocchini, Cesaroni, Pier Simoni, Ronconi, Melonna, Mancini, Ribichini, Alessio Otto, Cialoni, Alessandro, Lorenzo Lundici, Olivi, Spieroni, Perigo Tresci, Bontempo, Serrano, Matteo Quindici, Gazzimbo, Mancinelli, Giro Lomini, signor Coppari, signor Berrettini, Presidente, signor Brusti, Mr. Bor, infine il signor Setconi, ragazzi, un bocca al lupo! Grazie a tutti.